Arrivederci. Dove sarà il poeta? O di qua. Ok? Jacopo da lì si gira proprio. E di là ci si sconda. Mi fai parole? Carletto? Carletto dov'è? Carletto! Guardiamo il negozio. Montespertori, Montespertori di là. Ciao! E c'ho lui davanti. Guarda, guarda, guarda. Ho paura che ci si ripiglia dallo spello. Guarda, guarda, guarda. Carletto! Carletto! Dov'è Carletto? Vediamo il negozio. Eh? Lì tu gli lascio il cartone. Si cercano! Se mi cerchi, sono Montespertori. Molto esperto di! Mucho esperto di! Sta fermo! Molto esperto di! Devi girare almeno, no? E Carlo? Eh! va rifatto allora come mi raccomando ai barbio c'era molto esperto che questo è un vino a cartoccia che ho visto proprio che c'era scritto 3x2 l'offerta e lei l'ha preso dalla coppia direttamente no non importa grazie sottofondo museale sta bene un cappello chiudere tito chiacchierone facciamo ma se non c'è chi sta a sedere di te sto riprendendo spero siamo pronti si siete pronti anche se non è la festa del vino però il vino è molto esperto perché il vino è molto esperto io mi metto dopo mi piace il vino? ma cosa ci fai qua? vai da non mi piace il vino ti piace il vino? capito tu ti piace c'è il primo di voi tre che si alza lo mangio eh mi piace questo come fuori ombre è bellissimo come fuori ombre bellissimo e vuoi venire anche te? si si offre il vino anche a te no boh guardavano almeno se si fa l'intervista vabbè non mi ha smesso io sono dal diritto a registrare ok ma uno è il vino è molto esperto il vino è molto esperto si ci sta la festa del vino in inverno quindi questo non è il vino di Montesperto questo è il vino di cartocce normale a parte che ho visto prima ci penso e che lo versava e questo è il vino di Montesperto a me lo faccio il cartocce del vino di Montesperto che è successo? c'è no ma è scemo mi interrompi lo sketch e te lo lasciavo cioè voglio dire devo rifare lo sketch da capo per la terza volta ma Edmont esperto ne sono te o no? ecco qui spero ce ne ero io senti se vuole fare un'intervista beh dai ma non facciamo prima i saluti tutto questo